5, 4, 3, 2, 1... A bordo non c'era equipaggio, fanno sapere dal quartier generale dell'Agenzia Spaziale Americana, solo rifornimenti e, secondo alcune indiscrezioni, anche materiale segreto per le comunicazioni, i cui resti sono ora disseminati nelle proprietà circostanti la base NASA. E mentre gli esperti sono al lavoro per chiarire le cause del disastro, da Houston parlano di un'anomalia catastrofica, individuando il nucleo dell'esplosione nella zona dei motori. È da lì, infatti, che l'incendio si sarebbe sviluppato, trasformando il razzo in una palla di fuoco che ha inglobato anche la rampa di lancio. Eppure, fa sapere la NASA, le operazioni preliminari si erano concluse regolarmente, chiarando anche che il lancio, in origine previsto per lunedì, era stato posticipato a ieri per la presenza di una nave a largo dell'Atlantico, all'interno del perimetro di sicurezza del lancio. L'equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale non corre alcun pericolo di rimanere senza cibo e senza altri materiali indispensabili per la missione in orbita. E comunque, le abbiamo avvertiti subito di quanto accaduto, assicura la NASA sul suo sito. E mentre l'Agenzia Spaziale Russa si dice pronta, se da Houston non richiederanno, a rifornire d'urgenza la Stazione Spaziale e i suoi uomini, l'esplosione di Antares infiamma anche il dibattito politico per le elezioni di midterm negli Stati Uniti, rischiando di trasformarsi, per il presidente Barack Obama, che molto ha spinto sul programma di lancio di razzi commerciali per i rifornimenti, in un pericoloso boomerang. Quel boomerang che invece non ha risparmiato la Orbital Science, la società proprietaria del razzo, che ieri ha chiuso la sua giornata in borsa a meno 19%.